Sì Milo, buon pomeriggio. Effettivamente come dicevi tu in apertura del collegamento il cattivissimo stato di conservazione del corpo di Liliana potrebbe non fornire le tanto attese risposte e soprattutto quella relativa alla data del decesso di Liliana Resinovic che come abbiamo ascoltato proprio in apertura la prima autopsia ha fissato tra le 48 e le 60 ore prima del suo ritrovamento. Vi aggiungo un altro particolare significativo perché al momento della sepoltura Liliana Resinovic è stata chiusa in un sacco e non è stata utilizzata la bara zincata, quella per intenderci che il rivestimento della bara effettiva e questo potrebbe aver causato un'accelerazione proprio nel processo di decomposizione del cadavere. E' un motivo per cui per gli esperti risulta anche difficile riuscire a stabilire la natura di quelle lesioni presenti sul volto di Liliana sebbene in questa seconda autopsia hanno accertato la presenza di questa micro frattura al setto nasale ma purtroppo non è stata possibile datarla. Vi aggiungo un altro particolare come avete ascoltato dall'intervista ieri sono stati analizzati i vestiti e in particolar modo sono emersi i primi risultati di quella che è stata definita appunto una ricostruzione termica ovvero che c'è una differenza di temperatura di 5 gradi tra il boschetto e naturalmente il centro cittadino. Grazie.